oh salve ragazzi eccoci lì bene ci voleva ora voglio fare due cose noi dobbiamo arrivare là ora non so se avete notato ma in questo bel puntino dove io stavo passando qua c'è la bestia di satana ora se io mi metto la qui in acqua ma giusto per veder procedete con co per evitare il ok e guarda che l'ho caricato è ah vedi no comunque vedi che ti costringe a nonno alla fin fine per evitare un controcavoli signori vedete che alla fin fine mi costringe vabbè signore alla fin fine mi costringe di di usarlo quindi vedi quindi alla fine signori è scriptato quindi non cambia nulla e non cambia nulla o in un modo in un altro devo camminarci le forze l'unica cosa che potrei fare è il cambio vedendo vedere se effettivamente mettendomi lì camminare cosa succede niente devo comunque andare a piedi quindi c'era purtroppo notare quindi dove passa per di qua quindi ok io ero sicuro ho fatto due salvataggi per sicurezza però perché pensare la due cinematiche diverse ma a quanto pare il gioco dice no è interessante che ti fa fare è ok ok cosa ottenuto non è chiamato ok niente però ora che il muoto sicuramente guardate guardate la in fondo ma secondo voi non è una cazzo di coda guarda cioè io guardo io salverei così guarda come come due cretini come dei cretini che mettiamo così e il bello che siamo solo al capitolo signori siamo solo al capitolo 2 dai dai cazzo sta dormendo quello non è una terra quel coso non è una terra quel coso non è una terra state calpestando un cazzo di serpente gigante che coso non è una terra Quanto è figo! Aia, la donna è bellissima comunque. Aia, mi ha appena sfruttato qualcosa. No, attenzione al morsio. Eh, fa male. Ok, fa male, signori, fa male. Eh, ammorsicata. Il velo è che l'ha chiamato ammorsicata qualcosa. Ok. Claude, fai l'analisi di sta cosa, per favore. Ah, quindi vedi che c'hanno più di due abili. Ah, era un colpo di coda quello. Un'onda, che bello. Sputa a fuoco questo coso. Arto è segreta, vedete? Che figata! aia qualcuno che la libera e qualcuno che la liberi qualcuno che la liberi madonna ok ma ha fatto il verso del pisa a di arpok o la mia gama fatto il verbo di arpok oddio dove finito o dove il mio dove 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 aspetta aspettate ma sono in mezzo a lui abilità un posto il Sì, 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 Sì. Sì, però non me lo devi... Allora, mi urta sta cosa che mi devi dare la spiegazione. Ma l'avevo visto prima. Perché me lo metti durante una bella scena? Colpo incrovalciato, sì. Tabula rasa, sì, secondo il livello. Sì, sì, so come funziona. Lo so perché abbiamo fatto prima la cosa con Sephiroth. Ecco perché. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ok, ok. Oh, mi raccoglieremo. Sì, mi raccoglieremo. Mi raccoglieremo. Ah, mi raccoglieremo. Ah, è mancato, è mancato, è mancato. Allora, io ti faccio questo. Ti ho. Bellissimo, l'ultimo colpo. Ah, è scappato. Penso che l'avremmo sconfitto letteralmente. Quando si dice una braccia avvolgente, lol. Grado! Qua, sul serio? Ma dai, che razza di profondità era? Non me la ricordavo che era così? Eh, la madonna. E tu? Ah, oh Dio. Ciao. Lo vedo male a questo. Oh, la madonna. Come è morto, infilzato, malo. Molto? Sto è morto. Lo vedo male a tutti i due. Ma è morto. Vi vedo male, non si può fare. O, non si può fare. Ho detto i due. Non si può fare. Non ciò sono benvenuto. Lo vedo. Non si può fare. Vedete? E... Alice? Ciao, Cloud... Sepphros... Sepphros è forte... Oddio, quei ticci stanno andando lì... Sì... 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 Dov'è... Madonna, come è morto male... A me fa una tenerezza... È morto malissimo, sto poverino... Vabbè... Pazienza... Comunque è bello... Ecco, però certe creature sono esclusi... Sono uniche, eh... Perché mi sembra che nel... Questo ad esempio nell'originale non c'era, eh... Se non sbaglio... Quindi certe cose sono state modificate... Un po' mi ha fatto... Mi fa un dispiacere... Anzi no, quel cavolo... Voglio vedere una cosa prima... Sennò qui... Dove sei? Eh, che vuoi che scappate poi merdine... Ma quindi adesso... Boh... Vediamo... Sì, perché... Là era bloccato... Andiamo a vedere... Mi pare? Eh... Ok... Vedete... C'era qualcosa... Haha... Figurati se non c'era qualcosa qui... Pezzo di rubino... E figurati se non c'era altro lì... E vabbè... Ma perché il gioco giustamente dice... Tu devi esplorare ogni tanto... Vedi... E abbiamo sbloccato anche questo... E adesso dovremmo essere... Ah... Vedi... No... Non l'abbiamo fatto questo... Non l'avevo visto che ne erano tre... Ma l'ho notato... Dobbiamo ritornarci... Beh... Potremmo... Adesso... Beh... Sì... Resta un bello sconto... Non ho rischiato di morire tantissimo... Ma questo devo ringraziare pure... Il fatto che ho un livello altissimo adesso... Cioè... Altissimo... No... E ho un buon livello discreto... Per combattere e affrontare... Comunque cavolo ragazzi... L'avevo visto pienamente che c'era una coda lì in mezzo... Come avete fatto a non notare che qui... Vabbè... Sì... Vabbè... Fate schifo... Vabbè... Voglio un atto ritornare... Madonna... Ho fatto tutto il giro... Per qua perché ne è rimasto uno... Eh no ragazzi... Ho per fatto che è rimasto uno... Non so contento... Sì... Perché se ci fate caso i restanti... Eh... Io li ho fatti gli altri... Vedi... Ci sta un'altra... E l'ho fatto... C'era un'altra ancora da qualche parte qui... E l'ho fatto... Eh... Se non ricordo dov'era... Ma l'ho fatto... Ma lo ricordo... L'ho fatto... Ah... Ok... Do cacchio era l'altro... Ragazzi... C'era un altro in giorno... Mo' ricordo... Non sono pazzo... Eh... Dov'eri? Scusami... Mi ricordo... Solo uno c'era? No... C'era questo... E ci dovrebbe stare... Eh sì... Eh sì... Dove stai? Ah ecco di qua... Uno e due... Eccoli qua... Questi altri due... C'è che erano vicini... Eh... Scusatemi... Non so contento se non riesco a finirli... Eh... Io ho detto... Questo grosso difetto di... Che si fa... Si chiama... Semplicemente concetti completezza... Ragazzi... È... È più forte di me... Non riesco a non... A non completare un gioco... Se non faccio almeno le cose che posso fare... È sicuro al 100%... Comunque ve lo sconto con il surf... Con il... Praticante con il cobra... Gigante... Pure un bel design... Devo dire la verità... Un bel design aveva... Allora... Alcuni erano originali... No vabbè... C'era l'originalità... Che cacchio ho detto? Sì... Sì... Ho detto una sciocchezza io prima... Sì... C'era il... C'era... C'era la versione... Classica... Che mi piaceva... Sì sì... Sono scemo io... Ma ci stava riflette... Ma... C'era o non c'era? No no... C'era c'era... Vi confermo che c'era... Bene... Ora posso... Posso esplorare meglio... Ma sta sopra comunque... Quindi... Esco... Eccolo qui... Quindi scende un attimo... Si perché ne hai dubito fortemente che sta qui... Qui sta sopra... So io che non l'ho visto bene... Semplice... E' più forte di me... L'ho detto... E lo so che ci stanno dei tesori in più qui... Solo che... E' strano che non l'ho sgamato... Non vado... Non vado... E' molto bello... Ma... 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 E' un attimo... Ah... E' ma... Madonna... Come faccia... Uno l'ho preso Era qui Un altro era sotto Quindi sicuramente un altro si trova qui Che non ho visto Assicuro Sono io che non ho visto Bene Prima ne sono scappato Sì Allora Allora sta giù signori Sono io che non l'ho visto Beh effettivamente potevo anche farlo Eh sì allora è sotto 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 ragazzi Se questi erano tutti i livelli qui Allora vuol dire che l'altro era qua E non l'ho visto No No è lo stesso Allora vuol dire che Dove cacchio sta Scusami Mi indichi che sta qui No Ok Eh no perché non me lo indica qui Mi indica solo da sopra in poi Da qua E infatti sta là Non l'avevo visto proprio signori Ora sono contento Ce ne possiamo andare Bello Andiamo Corriamo Ecco fatto Scusate se è ormai stato un atto fermo Sentivo cazzino dalle scafuori Quindi ho detto che cacchio sta su Ma che è la routine È arrivato veramente Senta la routine Ah il circo Dal primo maggio Beh ok ma non mi interessa Scusate stavo sentendo quello che mi stavo dicendo Anche se adesso nei circhi Non stanno mettendo animali virtuali Intredimensionali Stanno a fare cose di luci cose strane Quindi non credo che sono animali veri Adesso ormai Cosa molto più figa in un certo senso Quindi perché no Stiamo a fare il percorso giusto Ok Sì Mi stavo andato a chiedere Che sto a fa Ok Comunque era troppo palese quella cosa signora Minch mi sono spandato Madonna questa serpente ha fatto una brutta Ma guarda è bruttissimo Che è rimasto lì E' bello che sta pure a fare una bella statuina lì Ah mamma mia Vabbè andiamo Spero di trovare delle belle scenette Allora Minchia ancora 20 minuti Dopo poco Voglio esplorare Eh togiti Scendi Ok andiamo Maestro c'è di Sì esploriamo Ah frigo Ok Sì Che cos'è questo Questa Ah è un pezzo di foglie Che è questo Boh Figo Ok andiamo Andiamo Entriamo Entriamo Capitolo 3 Cammino nero Uh Oh Cosa Gocgio E' unico Cosa 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 Ciao Momi Momi Ah ah L'avete Tutti Ah 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 Citazione Quando si è vestita Quando ha avuto a che fare Con quella Um C'è quello che dice No l'ho mi piace Voi Tutti E' un bel Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti C'è un luogo di... Oh, eccola, quello che mi serviva Ah, queste cose ci si siedono E' una sottospecie di museo Tecnicamente... Ok Allora, ci riposiamo Ecco che dobbiamo fare Ecco, oh, stavo cadendo Stavo cadendo E poi dobbiamo fare una cosa molto più importante A parte che stavo salendo i livelli Questa è la cosa più importante Ma... La cosa ancora più importante Prende questo Trovare se ci sono cose interessanti Gran pozione 3 Ci sarà qualcosa per noi utile Magia? No, non ci serve la magia C'è resistenza alla magia Un po' me Eh, però cazzo Quanto mi dai però Mi dai un bel po' Non lo so No, dobbiamo avere tutte cose potenziate Non mi va di... Ok Ma soprattutto questo 10, 10, 10, 10 Ah, che bello Oh Uh, manuale amplificato a livello 3 Che non posso vedere Ok Che cos'è questo? Attira il nemico Infligge danni magici di evento Ah, ok Questo l'abbiamo già fatto Bello Infligge danni magici di tuono A costo 0 con effetti di diffusione Ottimo Altrimenti Ok Attacchi caricabili Tenendo premuto Uh, bene Sì, con lui andiamo tutto con cattiveria Ok Minchia, abbiamo fatto tutto un potenziamento unico Questi valgono 5 C'è andata diretta in contente con la cattiveria di potenziamento Minchia Uh, ok Uh, andiamo È ovvio Lei ha il supporto Di Rai con Tifa Dobbligo Ora capire che ci mettono più tempo Ah, va, madonna Prolunga I durati di sbarramento magico Molto buono Con È perfetto Altrimenti È buono questo comunque Eh, mamma mia Eh, sto pensando Madonna Non so che questi sono tutti 5 Però I rossi sono i più importanti Un certo senso Oh Bello Così Sì I rossi sono i più importanti A mio avviso Ok Bello O altrimenti Uè, bellissimo Bellissimo Meglio questo Pam Eh, ragazzi Io faccio questo Perché i sinergini incroci È meglio Lo so Uno mi dirà Ma scusami Ma perché fai questo Perché sì Perché tanto poi comunque questi Valgono Valgono 5 Se mi tolgo prima i rossi Dopo con i 5 Vada a Gokko Mi pare Bene Giusto per sicurezza Ok Andiamo Oh Oh I rossi sono i più importanti Oh I rossi sono i più importanti Vado Ma no Li raggiungiamo con una Con una Con Senza problemi Teoricamente Possiamo anche Camminare con Un scialanza Voglio che chi sta rio Però voglio vedere Le armi Che figlio Comunque Una sottospecie Di museo Sugg floating Oddio Un peergiamo Tutto Un peggio Un peggio Un peggio Sa Un peggio coefficient Un peggio Sin Un peggio Pretty Un peggio Un 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 ... 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